Ciao amici! Da una gatta che protegge un neonato dal freddo a una balena che salva una sommozzatrice dall'attacco di uno squalo, ecco 12 animali che hanno salvato vite umane. Willie è un pappagallo che vive nel Colorado con la sua padrona Megan, la sua coinquilina Samantha e la figlia di quest'ultima, Anna. Un bel giorno l'uccello, che si trovava nella sua gabbia, si mise sul suo piedistallo per guardare e mangiare la piccola Anna che faceva colazione. Allora notò qualcosa di strano nella bambina. Anna stava soffocando e il suo viso era diventato blu. Il pappagallo iniziò allora ad agitarsi sbattendo le ali e a gridare mamma, bebè, più volte. Allertata dalle urla, Megan accorse e salvò la bambina applicando la manovra di Emlich. Gridando per attirare l'attenzione di Megan, la quale si trovava nel bagno, Willie ha salvato la piccola Anna. Solo dopo l'intervento della padrona si è finalmente calmato e ha smesso il suo spettacolo rumoroso. Tutto è bene quel che finisce bene, grazie alla sua reazione, l'uccello coraggioso è diventato un eroe ed è stato persino decorato dalla croce rossa. Ora ecco Masha, una gatta randagia che vive in un condominio in Russia. Un giorno di grande freddo, in cui la temperatura era sotto lo zero, Masha si rilassava nel corridoio del condominio, in cui era venuta a cercare un po' di caldo. Il suo sguardo venne attirato da un cartone che si trovava lì. Curiosa, si avvicinò e scoprì un neonato che era stato abbandonato. Allora la gatta saltò immediatamente nel cartone e, presa forse da un istinto materno, si strinse vicina al bebè per riscaldarlo. Grazie al suo pelo lungo, l'animale riuscì a mantenere il neonato al caldo, proteggendolo dal freddo e salvandolo, così da una morte certa. Rimase in questa posizione per molte ore, finché le urla del neonato finirono per allertare un abitante del condominio, che scoprì allora il bambino, abbracciato dalla gatta. Allora vennero chiamati i soccorsi che portarono via il bebè, sotto lo sguardo preoccupato di Masha. Solo quando l'ambulanza si allontanò, tornò finalmente a casa sua, accolta da eroina da tutti gli abitanti che la viziarono ancora di più da quel giorno. Theo era un maialino nano che viveva in Oklahoma con la sua padrona Courtney Goff, ed erano migliori amici. Una notte, mentre si preparava a dormire, la sua attenzione venne attirata da qualcosa di insolito. La casa prendeva fuoco mentre tutti dormivano. L'animale si diresse allora verso la camera di Courtney, grugnendo a più riprese per svegliarla. Grazie alla sua reazione, Courtney poteva allertare suo padre e il suo amico che dormivano anche loro. Theo avrebbe potuto salvare la sua pelle per primo, fuggendo dalla casa in fiamme, purtroppo il suo atto eroico gli costò la vita. L'animale venne ritrovato dai pompieri, incosciente, e morì successivamente a causa delle ustioni. Ormai Theo, vive nel cuore di Courtney e della sua famiglia, rimarrà un eroe per sempre. Ora stiamo per parlare di Cooper, il cane della famiglia Urness da quando era un cagnolino. Un giorno, mentre la famiglia si trovava nella sua fattoria nel nord Dakota, Cooper uscì fuori per giocare con Carson, il figlio degli Urness di tre anni. Il cane notò che Carson aveva iniziato ad allontanarsi dalla casa. Lo seguì, infatti Cooper non perse di vista il bambino un attimo e rimase al suo fianco. Finirono per perdersi con grandi sapunto degli Urness che allertarono la polizia e iniziarono a cercarli. Cooper trascorse allora molte ore fuori sotto la pioggia con il bambino, sul quale si era sdraiato per proteggerlo e tenerlo al caldo. Per fortuna il cane finì per essere trovato a circa un chilometro e mezzo dalla casa familiare, da un uomo che partecipava alle ricerche, ed entrambi poterono finalmente tornare a casa. Cooper ha salvato il bambino e, grazie al suo istinto protettivo e la sua fedeltà, è diventato un grande eroe agli occhi dei suoi padroni. La biologa Marina Nana Hauser, di cui la storia è fantastica, stava per immergersi nel Pacifico per filmare una megattera. Mentre si era appena avvicinata a uno di quei cetacei maestosi, fu stupita nell'osservare che quest'ultimo la spingesse, prima di ripiegare la sua pinna e la sua coda su di lei. Nan rimase nascosta sotto le membra della balena, senza capire ciò che stesse succedendo. Allora si rese conto che uno squalo tigre nuotasse vicino e che la balena tentasse di nasconderla. Incredibile! Questo gesto stupì la biologa, la quale sapeva che le balene agissero in questo modo verso altri animali per proteggerli contro eventuali aggressori, ma ignorava che potevano fare la stessa cosa con gli esseri umani. Questo atto non mancò di spaventarla, perché avrebbe potuto annegare se fosse rimasta più a lungo sotto la pinna della balena. Per fortuna non fu così. La sommozzatrice si ritrovò sul petto del cetaceo, che la fece risalire in superficie e poté allora tornare sulla sua nave sana e salva. Nanhauser ha vissuto un'esperienza straordinaria e il gesto protettivo di questa balena rimarrà impresso nella sua mente. Ora partiamo nel Venezuela, nello stato di Vargas, famoso al giorno d'oggi con il nome di Guaira per scoprire la storia di Orion. Il 15 dicembre 1999 questo Rottweiler si trovava in compagnia dei suoi padroni, ma a differenza del solito era nervoso e tentava di avvertire i suoi padroni riguardo una catastrofe. Il cane aveva ragione. Orion si ritrovò, come tutti gli altri abitanti, davanti a un'inondazione terribile. Mentre i suoi padroni furono soccorsi in elicottero, rimase sul luogo e partecipò alle operazioni di salvataggio. Infatti Orion riuscì a trasportare delle persone, tra i quali dei bambini, da una riva all'altra, attaccato da un cavo che i soccorritori gli avevano messo per far sì che non fosse trascinato dalla corrente. Grazie alla sua bravura e al suo coraggio, il cane salvò 37 persone e divenne un eroe per i soccorritori e per le persone presenti sul posto. Ritrovò uno dei suoi padroni che era tornato a cercarlo. Da allora Orion, famoso come il cane che ha salvato 37 vite umane, è diventato un animale famoso in tutto il mondo. Il suo atto eroico gli è persino valso di ricevere una medaglia e un certificato. Ciò che ha vissuto l'uomo, di cui stiamo per parlarti ora, è degno di un'avventura di Indiana Jones. Robert Biggs, un escursionista di 69 anni, passeggiava in una foresta in California. Si fermò un momento per osservare una mamma orsa e il suo cucciolo. Allora sentì qualcosa a spingerlo e strappargli il suo zaino. Si voltò e scoprì con orrore un puma pronto a divorarlo. Robert si vedeva morto, sperando in un miracolo. Ed è ciò che successe. Vedendolo attaccato dall'animale, mamma orsa intervenne per salvarlo e condusse una lotta feroce contro il felino che finì per allontanarsi. Grazie a lei Robert era sano e salvo, meno male. Potè finalmente tornare a casa sua, sicuramente con qualche ferita, ma decisamente vivo. L'avventura era finita, ma il ricordo di questa eroina, alla quale deve la vita, rimarrà per sempre radicato in lui. Ora ascolta la storia di Noel Osborne. Questo contadino australiano stava lavorando nella sua fattoria a Melbourne. Mentre si preparava ad effettuare uno dei suoi numerosi compiti, l'uomo anziano scivolò sul concime e si ruppe l'anca. Aia, il povero uomo, il quale si trovava da solo in quella fattoria sperduta, ferito e incapace di muoversi, si ritrovò abbandonato a se stesso. Le sue grida d'aiuto non furono vane, perché il suo cane e la sua capra Mandy vennero a soccorrerlo dopo averlo sentito gridare. Ma non immaginerai mai il seguito. La capra rimase rannicchiata contro di lui per cinque giorni, riscaldandolo durante le notti fredde e nutrendolo con il suo latte. Grazie a lei Noel poté sopravvivere alla fame al freddo. Il suo calvario finì quando si venne finalmente a soccorrerlo. Da quell'episodio sono diventati i migliori amici. Sai che alcuni animali sono in grado di dare il primo soccorso ai loro padroni quando questi ultimi stanno male? E ciò che ha fatto Pudding, un gatto che era appena stato adottato. Mentre si era arrotolato a palla per dormire con la sua nuova padrona, si rese conto che quest'ultima si trovava in una brutta situazione. Infatti la ragazza era diabetica e aveva appena avuto una crisi durante il sonno. Senza indugio, il gatto si mise con tutto il suo peso sul suo petto e iniziò a mordergli il naso. In questo modo riuscì a svegliare la ragazza, che poté così chiamare aiuto a suo figlio. Grazie al suo gesto, Pudding ha potuto evitare il peggio alla sua padrona, che rischiava di andare in un coma diabetico. Da quel giorno è Pudding il gatto salvatore. Oggi il nostro eroe trascorre giorni felici in compagnia della sua famiglia e di un altro gatto, e grazie al suo gesto è persino diventato un gatto terapeutico. Adesso stiamo per parlarti di un cane di cui la storia risale al 1925. Togo era un Siberianaski, un cane da slitta, che viveva in Alaska. Come tutti i cani della sua specie, possedeva un grande pelo e una grande resistenza al freddo, che gli consentirono un giorno di affrontare una grande sfida. La regione era in preda a un'epidemia di difterite, aggravata dalle condizioni di freddo estreme e dall'impossibilità di trasportare le cure in aereo. Togo, così come numerosi altri cani, furono quindi agganciati per trasportare la cura alla popolazione in quella che venne allora chiamata la Corsa al Siero. Togo, in testa agli equipaggi, riuscì a percorrere la distanza necessaria per trasportare il medicinale prezioso, il che gli valse lo status di eroe. La sua forza e il suo coraggio consentirono di salvare numerose vite umane. Dopo il suo atto eroico, Togo visse ancora quattro anni, non senza aver generato numerose cucciolate, che speriamo siano state valorose quanto lui. Togo è ricordato per sempre e nel 2011 è stato persino designato il cane più eroico della storia dal Times Magazine, un film che porta il suo nome e gli è dedicato. E finiamo con il video di un cane che tenta di salvare la sua padrona da due rapitori. Questo pastore tedesco si trovava in compagnia della sua piccola padrona in un campo, tenendola d'occhio per proteggerla. Allora vide due stranei arrivare e tentare di rapire la bambina. Allora il cane si precipita sui due uomini e riesce ad attaccarli, mordendoli e costringendoli a lasciare la bambina. Grazie alla sua reazione, il pastore tedesco ha salvato la sua padrona e ha potuto allora tornare serenamente al suo fianco. Ovviamente questa è soltanto una messa in scena che è stata recitata per mostrare quanto un pastore tedesco possa essere leale e protettivo e per dimostrare che questo cane è un vero eroe. Erano 12 situazioni in cui talvolta i nostri amici animali sono veri eroi e ci salvano la vita. Conosci altri animali che hanno salvato delle persone? Raccontaci ciò nei commenti. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto! Ciao!